Due cicli di incubazione senza nuovi positivi. Questo è quello che stabilisce l'OMS per dichiarare concluso un'epidemia. E da allora i 28 giorni senza nuovi contagi fatti registrare dalla BAT valgono la fine dell'emergenza coronavirus nella sesta provincia pugliese, prima a raggiungere questo traguardo in tutta la regione. Dal 3 marzo, giorno nel quale fu riscontrata la positività del tranese Carlo Crescente, al 26 maggio, giorno dell'ultimo contagio riscontrato nella provincia di Barletta Andrea Trani, sono stati individuati 380 pazienti, di cui circa 20 attualmente positivi e oltre 50 deceduti. I centri più colpiti nella BAT sono stati Andrea, Canosa di Puglia, Biceglie e Minervino Murge. A pesare sul dato del centro federiciano l'alto numero dei contagi riscontrato nell'ospedale Bonomo, mentre ad incidere sul dato degli altri tre centri più colpiti sono stati i focolai nelle residenze sanitarie. A Biceglie, sede del presidio sanitario Covid-19, città che insieme a Canosa di Puglia è l'unica della provincia ad avere ancora casi attivi, il dato è stato condizionato dal focolaio dell'ex istituto ortofrenico Donuva. Le RSA San Giuseppe di Canosa di Puglia e Bianzuoli di Minervino Murge hanno invece inciso fortemente sul dato dei due centri. Numeri più contenuti nelle altre due città capoluogo. Il numero dei pazienti totali a Barletta e Trani non ha superato i 30. Contagio ridotto infine a Trinitappoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando e Spinazzola, centri nei quali complessivamente sono stati registrati una decina di casi.